E' bizzarro vero, come in poche ore ogni singolo frammento della tua vita possa cambiare. Madre natura ha il potere di prendersi gioco di noi, delle nostre paure, delle nostre debolezze. Siamo tante formiche, all'interno di una sfera sospesa di nulla. Chi siamo? Qual è il nostro valore? Perché tanta sofferenza? Non esistono santi e non vogliamo esserlo. Ma anche noi abbiamo il diritto di soffrire. Abbiamo il diritto di sperare. Sperare che un giorno riabbracceremo i nostri cari. E potremo dire loro quello che avremmo dovuto dirgli ogni giorno. Ma adesso, in questo momento, c'è solo una cosa che desidero. Vendetta. Desidero strappargli il cuore dal petto. Desidero cavargli gli occhi con le mie stesse mani. Desidero fargli sputare sangue. Desidero fracassargli il cranio e pisciarci dentro. Questo è quello che voglio. Voglio fottermi ogni centimetro della loro anima. Chiunque sia stato assaggerà la mia ira.